Nuova vita per Johnny Depp, che dopo aver divorziato dalla sua ex moglie Amber Heard e dopo lunghi processi e momenti difficili da superare, l'attore di fama internazionale ha deciso di cambiare vita e di dire addio a quella hollywoodiana. Depp ha scelto di vivere in un ambiente più sano e affine, tenendosi lontano dai rumors. L'attore, diventato noto per aver interpretato Jack Sparrow, ma diciamo la verità lo era già da molto tempo prima, si è trasferito nel Regno Unito e oggi vive in una casa di campagna inglese nel Somerset per poter condurre una vita tranquilla. Ciò che ha dichiarato è che ama i luoghi con carattere, ama gli inglesi e il loro caloroso carattere, adora intrattenersi con i suoi fan ma fino a un certo punto, infatti quando trascorre del tempo con la sua famiglia, proprio per staccare dalla sua popolarità, confessa di essere infastidito e i britannici sono proprio così, persone discrete che non lo assalgono insistentemente, infatti dichiara che Lee riesce ad entrare in un negozio senza la pressione dei fan. Depp si definisce una persona timida, al contrario di quanto si possa pensare e Lee ammette di poter essere se stesso e questo gli piace. Ma ritornando alla sua abitazione e basandosi sulla fonte giornalistica Evening Standard, che ha fatto i conti in tasca a Johnny Depp, gli è costata 13 milioni di sterline. La villa l'ha acquistata nel 2014, quando era fidanzato con Amber Heard, ma l'attore l'ha preso in considerazione solo ultimamente, proprio perché stanco della sua burrascosa storia. È a tre ore e mezzo da Londra, quindi è una casa abbastanza isolata, ma non troppo. La casa è recintata da un parco di 850 acri, che in metri quadrati sono una cifra enorme per un terreno. È composto da 12 stanze e 8 bagni, quindi non proprio un classico cottage inglese, ma comunque è una casa degna di una star di Hollywood. Depp è entusiasta della sua nuova dimora, tanto da pensare lui stesso all'arredamento. Infatti, qualche settimana fa è stato visto comprare alcuni elementi d'arredo di antiquariato un po' stravaganti nell'Inconshire. Una sedia da scrivania, tre chitarre, un set di pittura, cavalletti, alcune foto e poster. Una nuova vita meritata appieno dal nostro Depp, dopo il suo divorzio che era diventato un caso mediatico, una situazione burrascosa soprattutto da parte dell'ex moglie dell'attore, Amber Heard, che lo ha duramente accusato di reati molto gravi, accusandolo appunto di violenza domestica e raccontando episodi che avrebbero coinvolto persino la sorella e inoltre insinuando di aver corrotto anche il giudice. Alla fine però ha vinto la causa Johnny Depp, chiamiamo tutti, mentre è stata condannata per diffamazione ai danni di lui e al pagamento di circa 15 milioni di dollari la sua ex moglie. Depp ha anche dei nuovi progetti, oltre ad essersi trasferito nel Regno Unito, ha deciso di dedicarsi alle sue passioni, in primis dedicandosi alla musica. Infatti, oltre ad essere un eccellente attore, Depp è un bravo e talentuoso chitarrista, tanto da aver stabilito delle tappe per il suo tour musicale. Ma oltre a questo si dedica alla pittura e alle arti figurative, esponendo alcune delle sue opere nelle gallerie più prestigiose del Regno Unito. Inoltre, si è prestato per la collaborazione di Savage Fenty di Rihanna. Curiosità che sicuramente vi farà piacere sapere è che Johnny Depp ha scritto una canzone ispirandosi al processo contro la sua ex moglie Amber, la quale ha scalato in poco tempo le classifiche mondiali. La canzone è disponibile dal 15 luglio e farà parte di un album scritto insieme al chitarrista britannico Jeff Beck, dal titolo 18. Altra piccola curiosità che forse non sapete è che circa un mese dopo aver vinto la causa per diffamazione contro l'ex moglie, Johnny Depp ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio, una freccia rotta alla quale potremmo dare un'infinità di significati, da una delusione d'amore a una sconfitta. Ma i suoi tatuatori hanno rivelato che il tatuaggio segnerebbe la fine definitiva di Amber dalla vita dell'attore. Ma secondo alcuni suoi fan, quella freccia potrebbe anche significare un brutto periodo. Secondo te che interpretazione ha il nuovo tatuaggio di Depp? Commenta. Ma vogliamo ripercorrere un attimo la sua vita sentimentale e non solo, anche la sua carriera. Depp, dal 1983 al 1986, è stato sposato con la make-up artist Laurie Ann Ellison. Dal 1989 al 1993, Depp ha avuto una relazione con varie attrici come Sharon Infan, Jennifer Grey, Winona Ryder e dal 1994 al 1997 con la bellissima modella Kate Moss. Nel 1998 inizia una relazione con l'attrice e cantante francese Vanessa Paradis, da cui ha avuto due figli, Lailie Ross Melody e John Jack Christopher Depp III. Nel 2012 però, dopo 14 anni di convivenza, i due si lasciano. E dal 2012 al 2016 ha avuto una relazione con l'attrice Amber Heard, che ormai non possiamo più dimenticare. Nel 2015 si sono sposati e solo dopo 15 mesi Amber gli ha chiesto il divorzio, accusandolo di violenza domestica. E il seguito lo conosciamo tutti perché si è protratto negli anni fino alla sentenza del giudice a sfavore di Amber del 2022. La sua carriera è vastissima e i premi vinti altrettanto, a partire dal suo esordio ricevendo una parte del film horror Nightmare dal profondo della notte. A finire con la serie cinematografica I Pirati dei Caraibi, dove è interpretato il famoso Capitano Jack Sparrow. Il film Alice in Wonderland, Sweeney Todd il diabolico barbiere di Fleet Street, La fabbrica di cioccolato che ha incantato tutti e non dimentichiamo di Edward Mani di Forbici. E chi più ne ha più ne metta. E come abbiamo accennato prima, è anche musicista, quindi ha pubblicato un paio di album nel corso della sua carriera, tre con quest'ultimo del 2022. Insomma, Depp è un uomo che con il suo talento e la sua bellezza ha varcato i confini del mondo. Attualmente ha quasi 60 anni, precisamente li compierà il 9 giugno e pare non avere nessuna relazione amorosa. Il video è terminato, se ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale. Un saluto e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.